Sì, è una serie abbastanza veloce Molto diversa da Civilization 5 originale Perché è una mod, una total conversion Una delle migliori mod di Civilization 5 Da World War 2 Edition di Red E mi introdurrò anche a questo mod Vi spiegherò che cos'è, eccetera, eccetera, eccetera Innanzitutto, chi è Red? Non Redbox FPS R-I-E-T È un gruppo di modders O modders, non ho mai capito questo Non sono mai riuscito a capire Ma credo che sia un gruppo di modders Che fanno queste mod di Civilization 5 Hanno fatto Yet Another World Map Appunto la World War 2 Quella delle unità etniche Che è stata abbastanza buona Molto ben fatta Una delle formazioni Una del miglioramento della diplomazia E posso andare avanti così per anni Perché ne hanno fatte veramente tante Ma credo, non so, un persona Tante, tante Meno Comunque Le mod che sto utilizzando appunto sono Red World War 2 Edition La Data Files Che è necessaria E la Extreme Scale Che è una mod grafica per l'unità E vi spiegherò che cos'è in gioco Innanzitutto Partiamo Ovviamente come suggerisce il nome È ambientata nella Seconda Guerra Mondiale La Seconda Guerra Mondiale Ovviamente Non possono mettere tutte le fasi La Seconda Guerra Mondiale Nemmeno Fasi più piccole Quindi hanno messo Tanti scenari Per varie fasi della guerra Questa mod qua È ancora in produzione Tipo ci sono certi scenari Che sono, metti caso Nord America Oppure Small Europe O Della Terra Che sono un po' In fase instabile Perché sono ancora in alfa Però tipo La Terra del 42 E l'Europa Stalingrado Sono completate La Terra del 42 È un po' instabile Perché la mappa È veramente gigantesca E infatti ci vuole un casino E infatti Non Non andrò su questo scenario Perché non è adatto Per registrare un video E andrò Su Europa Del 39 45 E comunque C'è anche la battaglia Stalingrado Però Molto veloce Molto piatta E soprattutto È molto difficile Da entrambe le parti Io ci ho giocato E ho vinto Con i tedeschi Con i russi La sto ancora facendo Ed è difficilissima E comunque Ce la sto un po' facendo Dai sì Ci sono comunque Poi altre cose Che sono tipo Del Nord America Europa Dal 36 36 42 39 39 Perché ovviamente Ci sono varie fasi Della guerra Tipo c'è la Terra Di pre-guerra Dal 36 E la Terra Di inizio guerra Poi c'è l'Europa Di pre-guerra E no Non ce l'ho L'Europa Inizio guerra Scherzavo E eccetera Eccetera Oltretutto è curioso Che Se tu parti Nella mappa terrestre Del Guerra del 42 Se tu scegli la Francia Parti senza Parti che hai praticamente Perso Perché non hai più nulla Ed è fantastico E comunque Sì Sono un gruppo di modders Non mi stavo sbagliando Ho controllato qui E Comunque Partiremo con l'Europa Del 39 45 Innanzitutto Le civiltà giocabili Sono sei Dell'Europa del 45 Nelle altre Negli altri scenari Variano Tipo c'è Nella mappa terrestre Ci sono tutti questi qui Tipo Grecia Germania Inghilterra Francia Italia E Russia Più Cina Stati Uniti E Giappone Negli altri Negli altri scenari Poi ovviamente Se tu metti Nord America E Europa assieme Ci aggiungeranno Anche Gli Stati Uniti Ma Mi starti chiedendo Laro Tutte le altre civiltà Tutte Anche fazioni Stati che Sì hanno partecipato Alla seconda guerra mondiale Ma non attivamente Che sono solo stati conquistati Che cosa faranno Beh questi qua Invece saranno Delle città stato E Giocheranno un modo Abbastanza particolare In tutta la partita Innanzitutto Parlando di questo scenario Abbiamo Di Ioannis Metaxas Non so chi sia Scusa Mi scuso con tutti I greci In caso se mi stanno seguendo E Danno un Bonus Hero Fight Like Weeks Che Le unità Terrestri Diciamo il bonus Disciplina Che Vi spiegherò Anche dopo un po' Che cos'è E Capiterà spesso Che io mi scontrò Contro la Grecia Poi hanno Le proprie unità Tutte le fazioni Hanno le proprie unità Particolari Poi tipo C'è Adolf Hitler Che ha Blitz Con Bonus Che tutte le unità armate Hanno Blitz Rig Roba troppo Grava Poi ci sono Gli Stati Uniti Gli Stati Uniti Che cazzo dico Inghilterra Che ha We Shall Never Surrender Che li rende Praticamente impossibile Conquistare Perché hanno Più 25 forze D'attacco D'attacco Acqua che spacqua D'attacco Nel territorio inglese Appunto Poi abbiamo Shardagol Per i francesi Che ha 50% in più Di Della chance In cui Di Di creare Partigiani Nei territori Conquistati Dal nemico Ovvero Se a me Conquisto Un po' di territorio Ci può Essere la probabilità Che nasconde un'unità Nel territorio nemico E' una Cosa abbastanza Interessante Un po' sgrava Soprattutto se tu Devi attaccarli Poi abbiamo Il nostro Benito Nostro Bello che sto registrando Questo video Il 25 aprile Non dovrei Comunque Abbiamo Benito Mussolini Che ha Mael Nostrum Che è l'unità Di navi Hanno il 33% Di mantenimento In meno E hanno anche La La caratteristica Sapli C'è Rinforzo Che vi spiegherò Anche dopo Cos'è E poi dopo C'è Joseph Stalin Che ha Great Patriotic War Che il personale Ha un ratio doppio Di spawn Nelle città sovietiche Oh Personale Vi sto parlando I partigiani Personale Blitz Disciplina Non ci starete Capendo Un cazzo Ma Una volta in gioco Vi spiegherò tutto Oltretutto Tutte le fazioni Hanno una situazione Di partenza Diversa Tipo i greci Partono con una situazione Economica Navale Di produzione Diplomatica Tra le peggiori Forse diplomazia Nella media Non mettiamo divinità Se lo perdo subito Mettiamo real Per esempio E comunque I greci Partono Con tutto Basso Di statistiche Di stelle Però Loro partono Circondati Da città stato Alleate Partono Con una buona Situazione Diplomatica Tra Russia Francia E Inghilterra E sono molto Diffici da conquistare Perché hanno un territorio Molto strano Ed escono comunque A avere un buon Controllo Sul mare Però se vengono subito Attaccati dall'Italia Non possono durare tanto Dovano subito Farsi alleanze Però loro Sono abbastanza Diffici da conquistare Perché hanno Punto il bonus Di disciplina Che li rende Troppo sgravi Poi abbiamo Hitler Che ha L'esercito Di terra Più potente Di tutti Poi L'esercito D'aria Molto potente Con la Luftwaffe Che veramente Sgrava Anche quella Produzione Molto elevata Economia Nella media Situazione diplomatica E' veramente peggiore Una delle peggiori Credo che Solo Il nostro Josef Ce l'ha Tra le peggiori Oppure anche La Cina Però non siamo In questo scenario Poi ha La forza Della flotta Che Non è tutto Stocché Intanto la Germania Non serve Solo che parti In una situazione Che è circondata Da nemici Ha l'Inghilterra Che gli fa pressione La Francia Subito di fianco Se La Russia Conquista Polonia Anche circondata Da lì Quindi la Germania E' molto difficile Utilizzare Però Ha appunto Un esercito Troppo sgravo Troppo potente Parte con l'esercito Più potente Del gioco E poi Dei anche Fare attenzione Che l'Italia Magari ti può Anche stabbare Alle spalle A un certo punto Cioè colpire Alle spalle Winston Churchill Invece C'ha La migliore flotta E' il migliore esercito La mia Migliore esercito La migliore flotta Anche di aerei Cioè Migliore Come si dice Aerei Aeronautica Sì Aeronautica La migliore aeronautica Agli aerei Troppo sgravi Può bombardare Subito la Germania Cioè Bombarda la Germania Quanto vuole Ha la situazione Diplomatica migliore E Sono molto Facili a giocare Gli inglesi Perché Sono isolani Hanno Una forza navale Potentissima Hanno Una flotta Potentissima Hanno pure Gli aerei Gravi Economia buona Produzione buona Che situazione Diplomatica Alle stelle Però la diplomazione Non serve tanto In queste Mod Quindi Sono potentissimi Diciamocelo Poi Abbiamo Da Gol Che E E i francesi Che Sono Una delle civiltà Più difficile A giocare Qui Perché Beh hanno Tutto molto Bianciato Una situazione Diplomatica Fantastica Poi tutto Sopra le tre stelle Molto Potenti Solo che Parti Già subito Che hai là Sei l'unico L'unico Stato alleato Che Oltre alla Russia Che ha diretto Contatto Con la Germania E l'Italia Quindi Se ti fa un attacco Combinato Tu non sopravvivi Tanto A lungo Anche se Ti può aiutare La In terra Però è difficile Parto in una situazione Di terra Proprio il posizionamento La peggiore Perché possono essere Attaccati alle spalle Da tutti E sono molto difficile Utilizzare Anche se Hanno tutto sopra Le tre stelle Poi abbiamo Benito Mussolini Sì L'Italia E Non è tanto forte Anzi L'Italia non è forte Esercito Economia Situazione diplomatica Però Ha una produzione Buonina Non è il massimo Una Fortezza aerea Che Non è tutto Stocchevo Lo posso assicurare Però è buona E ha un esercito Navale Potentissimo Ma l'Italia È veramente Sgrava Perché Parti che è alleata Con l'Albania Con la Libia Quindi Tu praticamente Ne città è stato Albania e Libia Quindi dall'Albania Tu riesci subito Attaccare la Grecia E oltretutto Loro Se vogliono Possono dichiarare Guerra Anche un po' più tardi Quindi Possono subito Andare contro la Grecia Farsi un buon esercito Dopo attaccare la Francia E poi oltretutto Loro Oltre ai francesi Non sono circondati Da nemici E oltretutto L'Italia Parti in una situazione Fantastica Che ha Ovviamente La penisola italica Mezzo al Mediterraneo Puoi avere un controllo Molto efficiente Su tutte le città-stato Quindi Poi la minaccia russa È lontanissima E sono una delle Situazioni di partenza Migliori Però Se ti dichiara Guerra La Francia Subito Sei fritto Non ce la puoi fare Veramente Non hai tante chance C'è solo stretto Che sta tra Genova e Inizio Ti può dare una mano Però È difficile Poi abbiamo Josef Stalin Che parte con l'esercito Più potente del gioco Credo In flotta non ne ho Economia È veramente basso Produzione Produzione Buona Situazione diplomatica 4 E Forza aerea 2 Stalin Che Vedendolo così Non è che sembra Tusto che sia All'esercito Molto presente È anche Una situazione diplomatica Buona Però Che cos'è Che non va tanto In Stalin Perché Oltre che Se viene attaccato A Germania Non è che si riesce Tanto a difendere bene Perché non può essere aiutato Nessuno Però Stalin È abbastanza Posso dire Facile Da utilizzare Se uno lo sa utilizzare bene Se tu vai subito A attaccare Tutte le città Stato del sud Tipo Georgia Turchia Passi dalla Grecia La conquisti Vai all'Italia La conquisti E tu ce la puoi fare A conquistare il mondo Se la sai giocare bene Se non attacchi la Polonia La Polonia Non bisogna attaccarla subito Non lo consiglio Perché È circondata Da città Stato Quindi è abbastanza buona Poi Sulla Quarantina di città Che sono veramente tante Tu ti crei un casino Di persone Che possono andare in guerra Quindi Detto questo Io vado su Benito Mussolini Perché Non Per scelte Mie politiche Ma assolutamente Non condivido Le sue idee politiche Ma è solo perché Voglio vedere Se L'ora delle decisioni Irrevocabili Fosse Andato un po' diverso Tipo in quell'ora Ci fosse L'Arus Che Sul Palazzo Venezia Come si chiama Non mi ricordo C'era lui invece di Benito E parlava Di Poi Arco Baleno Che conquisteranno Il Regno d'Albania Comunque Lasciamo così Io metto Come Appunto Tutto quanto Metto Extra Autosave Storia alternata Che possiamo Dichiarare guerra Oltre il calendario Perché qua C'è una brutta cosa Che noi Non possiamo Dichiarare guerra Entro la sorta di calendario Il CPU Oltretutto Va A date Tipo Metti caso Quando è che hanno dichiarato guerra La Francia All'Italia Non mi ricordo Non mi ricordo Guarda No in realtà è l'Italia che dichiarano guerra Beh comunque Lasciamo stare Metti caso La Germania invade la Polonia Quel giorno invade la Polonia Non è che Tipo Giorno dopo Può decidere quando vuole No La situazione di partenza è questa Poi metti caso Dal 40 Dal 1940 La Francia E l'Inghilterra Faranno un'alleanza Trenne C'è tutto Molto Cadenzato Molto serrato E questo Una grande pecca Perché è bello Tipo Io mi ero fatto Tutti i miei piani La prima volta che ci avevo giocato E poi alla fine Boh tu devi dichiarare guerra Per forza la Polonia L'ho fatto la prima volta Con la Germania Dichiarare per forza Guerra la Polonia In che volevo Subito attaccare l'Italia Perché Sapevo che mi avrebbe Stammato le spalle Invece non potevo Perché È comunque un casino Quindi Scegliamo Benito Possiamo anche scegliere Se fare Hotset Cioè local multiplayer Se serve split screen Quella è una cosa di strana Eccetera eccetera Possiamo anche mettere Eventi scriptati Ma non è Sicuro Perché Sono praticamente Dei video Che metti in caso Quando la Francia viene ambientata C'è questo video Quando C'è La battaglia di Stalingrado C'è questo video Tutte queste cose qui Ecco La conquista di Stalingrado Eccetera eccetera Ci sono tutti questi video qui Immagini Foto Però non li ho mai attivate Non so capisco cosa fanno Però Possono far crashare il gioco E a me non va tanto Non voglio rischiare Intanto magari Posso mettere io Qualcosa di interessante Io Nel montaggio video Dopo questa introduzione Di 20 minuti Credo Partiamo Compattenti Di terra Di mare Dell'aria A mi temere Dalla rivoluzione E delle legioni Uomini e donne Di taglia Dell'impero E del regno Dall'aria Ascoltate Un'ora Spegnata dal destino Batte Il cielo Della nostra patria L'ora L'ora Delle decisioni Irrevocabili Beh non sto Ascoltare anche Il discorso Di Benito Mussolini Potete guardarvelo Su Youtube Tranquillamente Se no stiamo qua Metà video A spiegare la mod E metà video A sentire il discorso Di Benito Mussolini Che ne ha Detti 70 anni fa Comunque Eccoci qui Questa è la mappa Bando ai bug Grafici Di Civilization 5 Lì ci stanno Ormai abituati Vediamo un po' Che cos'è Questa mod Che cosa Mette Come notate L'interfaccia È totalmente Diversa Molti Sareano Spagliati Dirando Larus Dov'è La schermata Del cibo Scienza Cultura Che cos'è Personale Che cos'è Materiale Calma Innanzitutto Possiamo Udire La musica Di Roma Comunque Innanzitutto Qui non esiste Scienza Non esiste Cultura Non esiste No esiste La produzione E Non esistono Queste cose qui Perché noi Dobbiamo solo Puntare Su Personale Materiale E oro Totale Queste qua Sono le cose Che dobbiamo puntare E oltre alla diplomazia Perché Siamo in guerra Totale Non dobbiamo Badare A scienza La scienza Va avanti da sola Sbloccheremo Dei tipi nuovi Di carri armati Della Fiat I metici Carri armati Della Fiat Non so se c'è qualcuno Di voi Che se ne intende Mi pare che qualcuno Di voi Su un canale Tra i miei iscritti Che ho curiosato Una volta Che faccia Recenso Di carri armati Della Fiat Comunque Mi sto già divagando Vaffanculo Comunque Mi sto già divagando Oltretutto Non si dovrebbe dire Possiamo vedere Che qua partiamo Con delle città Non possiamo fondare Altre città Possiamo solo Creare unità Militari Non possiamo creare Strade Queste cose qua Sono solo scenografiche Non assolutamente Non servono nulla Tipo fattorie Industrie Manofattorie Non servono Nulla Il personale Che cosa serve Cosa serve Oltretutto Anche il materiale Funziona così Ogni unità Per turno Costa Del personale E per produrre Un'unità Bisogna Mettere del personale Del materiale Facendo un esempio Mettiamo qua Il L'artiglieria Voglio costruire l'artiglieria Mi costerà 320 Di produzione Vuola La produzione Quella che Per città Dipende Da Praticamente Quello che metti Di fabbriche Dentro La città Oppure I war bonds Che metti Tutti gli editti E tipo Quando Un'unità Di artiglieria Metti caso Facciamo un'unità Molto più semplice La prima divisione Infanteria Metti caso Viene danneggiata Non so quanta Vita abbia Metti caso Ha 10 di vita Questa unità qui Mettendo in paradosso Non so se è così Ogni turno Ogni punto vita Anzi Per recuperare questo punto vita Dobbiamo dare 10 di personale E 5 di materiale Quindi se questa unità qui Si becca Due punti ferita Due di danno Per far si che sia curata Dobbiamo spendere Metti caso 20 di personale E 10 di Materiale E così Sarà curata Partimento Sarebbe questo Il materiale Per mantenere Le unità Sicure Per far si che si curino Però per far si che si curino Queste unità Devono essere Il nostro territorio E non solo essere Il nostro territorio Dove essere un territorio Collegato alle capitale Tipo Non basta che ci passi La strada Ci deve essere Per forza Una Tutto il territorio Che sia collegato Ok Qua oltretutto Non è che esistono Un'unità di fanteria Un tipo di carri armato Una fregata Una corazzata E basta Qua esistono Un casino di navi Un casino di fanterie E un casino di tipi di carri armati Per esempio Prendendo la flotta Che noi italiani abbiamo In questa moda Abbiamo Una delle flotte migliori Abbiamo Metti caso La classe soldati Che è una nave Poi abbiamo La Zara Che è una Corazzata Abbiamo La Benso Conte di Cavour Abbiamo La Marcello Che è un sottomarino E abbiamo Vittorio Veneto Poi abbiamo Un'altra soldati Ogni nave Ha punti Di forza Differenti Metti caso La Zara E la Conte di Cavour No Questa qui La Vittorio Veneto È l'ammiraglia Della nostra Flotta Perché la più potente Può far fuoco in diretto Approvvigionamento Tutte queste cose qui E comunque Tutta questa nave qui È più potente Di queste qua Metti caso Può Attaccare solo da una casella Eccetera Eccetera Tutte le navi Sono diverse Una dall'altra Poi ci sono Bene Le solite La Fiume La Giulio Cesare La Littorio Eccetera Eccetera Non so spiegarvi tutte le navi Però diciamo che Tutte le navi Sono diverse Una dall'altra Poi però E basta Non c'ho nient'altro A dire Sulle navi Ah già Tutte le forze D'attacco Delle navi Metti caso Sapete che le navi Attacco da distante Cioè Attaccavano a distante Qua tutti attaccano a distante Non fanno abbordaggi Come I corsari Di Gods and King Attaccano solo a distanza Ma Il massimo D'attacco a distanza Che hanno è una casella Anche l'artiglieria Ha solo una casella Ma non allarmatevi L'artiglieria Non è utile La possiamo posizionare Sopra qualsiasi unità Tipo in stile Civilization 4 Per farla breve Ecco Innanzitutto Qua possiamo vedere Che abbiamo Tutto il nostro esercito Abbiamo Una flotta qui Abbiamo Un'altra flotta qui Un esercito qui E Un esercito Qui In Libia Poi abbiamo Rodi Tutte queste città Noi siamo alleati Con la Libia E con il regno D'Albania Ecco Cosa Dobbiamo farci subito Un piano d'attacco Noi abbiamo Fino Al 40 Si Al 40 Tutto il tempo Che vogliamo Per attaccare Tutte Le città Stato Per farci una buona forza Poi dopo possiamo Attaccare Chi vogliamo In realtà Possiamo anche Dichiarare guerra Tra 4 turni Alla Francia Se vogliamo O tutti Quelli che vogliamo Però ovviamente Non ci conviene Perché la Francia Ci farebbe un culo Quadrato Quindi Siamo A posto Così Possiamo vedere Che L'Inghilterra Ha Varie città In giro Qua possiamo Vedere che ha Suez L'Icosia Poi ha anche Malta C'è la L'Inghilterra Ci circonda un po' E E comunque Noi Dobbiamo Farsi Di farci Un buon piano Io Ho idea Di Soluto Di attaccare Jugoslavia Partendo da nord Appena abbiamo L'opportunità Di conquistarla Da raggiù Con la nostra flotta Navale Con l'esercito In Libia Di attaccare Poi dopo La Grecia Dal basso Non dovrebbe essere Molto difficile Dobbiamo attaccarla Subito prima Che faccia Qualche alleanza Strana Poi dopo Possiamo andare Su La Bulgaria E poi dopo Partire Anche se vogliamo Costare un po' Di Turchia Non fa male Poi dopo Partire in Francia E sarà già arrivato Il 1940 Allora Delle decisioni Robocami Tanto La nostra Germania Da Da pochi turni Tra pochi turni Dichiarà guerra Alla Polonia E attaccherà qui E anche i russi Dichiareranno guerra Alla Polonia E attaccheranno qui Qua Si troveranno In un punto di incontro Poveretti E quindi Ci sarà poi dopo Una Guerra Molto massiva Qui Poi dopo La Germania In teoria Dovrebbe andare A nord Conquistare Tutta la penisola Scandinava Sta qua A meno 4 Di forza D'actacco Ma come cazzo Possibile Comunque Conquisterà Tutte le penisole Le penisole Scandinave Anche La penisola Danese E poi dopo Andrà Attaccare la Francia E sarà Continuamente Bombardata In Inghilterra Quello che Possiamo Fare E Innanzitutto La Russia Possiamo anche Non farci Troppi problemi Possiamo Vivere Anche se C'è la Russia La Russia Prima che ci Darà problemi Passeranno Turni 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 E anni E anni Il piano D'attacco E Conquistare qui Questa zona Così abbiamo Forse la Bulgaria E' meglio di no Stavo pensando No la Romania Non la conquistiamo La Bulgaria Si La Romania Facciamola come È stato Cuscinato Nel caso Se La Russia Ci attacca Però Il resto Teniamo qui Poi Conquistare Questa zona Magari anche L'Algeria Senza fare la disfatta Di Come si chiama Non mi ricordo Devo guardare il nome La città È la La Maine Ecco Senza fare una disfatta Del genere E dopo Possiamo fare Quello che vogliamo Conquistare la Francia Così L'Inghilterra Sarà da sola E noi E la Germania Andremo ad attaccarla Una volta eliminata L'Inghilterra Andremo ad attaccare La Russia Se riusciamo Se riusciamo Però la Russia È da sola Sarà facile D'attaccare Quindi Partiamo subito Inizio A spostare Un'unità Qui Non si sa mai Facciamo da guardia Proprio È anche un'unità Di carri armati Qui Giusto perché Sono una persona Che Vuole tenere Tutto sotto controllo Poi dopo Iniziamo a Spostare Ottenere Le nostre unità A Trieste E E Ok Bene Questa prima puntata Qua è stata Solo un po' Di spiegazioni Poi dopo le prossime Saranno Più non libere E Ah anche La nostra Squadrona Possiamo tenerli Al momento Tutti a Bologna Perché Bologna Mi pare che da Bologna Possiamo attaccare Sia Nizza Nel caso Se ci attaccheranno Tenere Nizza lì E attaccare anche Zagabria Se vogliamo C'è stato Quest'estate A Zagabria Una città di merda Comunque Ok Io quello che posso dire Adesso è Possiamo utilizzare Un po' di flotta Non tutta Tipo Tre Ammiraglie Queste tre Come Unità per attaccare Bombardare Spit Spalato Come si chiama Spalato Bellissimo Come città Invece quella Utilizzeremo lì Per bombardarla Poi dopo Da terra Andremo lì E conquisteremo Invece tutte le altre unità Di navi Le manderemo in Grecia Qui E faremo una flotta Che la Grecia È una flotta Che non scherza Posso dirvi È una flotta Veramente potente Non sembra Ma è veramente Cazzuta la Grecia Don Fate incazzare La Grecia Mai Tanto Qua possiamo vedere Che è Wickers Vediamo un po' che unità Qua Patras Sì Patras Ah no Ok Innanzitutto Poi c'è anche Il sistema di conquista Qui Che è un po' diverso Da Quello che conoscevamo già Perché Che cosa ha Questo sistema Qui di strano Questo sistema Di conquista È un po' diverso Che non basa Tanto su Conquistare Una città E poi dopo Conquisti tutti I prefetti attorno Tu se Metti la tua unità Qui Metti caso Siamo in guerra E io metto Un'unità qui Questa casella Qui la conquisto Se metto Un'unità qui Questa casella Questa casella Questa casella Questa casella Qui la conquisto Eccetera 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 Ovviamente Le città Bisogna assediarle Conquistarle Fare tutto il macello Quindi Basta che noi Mettiamo un'unità Qua sopra La conquistiamo Oltretutto È indispensabile Conquistare tutte Queste caselle Se vogliamo Continuare Tenere la nostra linea Di rifornimenti Attiva Quindi Quello che consiglio È Tenere sempre Una buona linea Di rifornimenti Attiva Perché se non avete La linea di rifornimenti Attiva Avrete Malus Su malus Su malus Alle unità Poi avrete Unità che non si cureranno Eccetera 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 Quindi Poi oltretutto Voglio partire Facendo Tutte queste cose qui Questi editti Che servono Più che altro Aumentare la produzione Cioè Oltre Non proprio la produzione Lo stock Che così Aumenteremo Le risorse Per andare in guerra Che noi dobbiamo andare in guerra Più preparati In una maniera Più preparata possibile Le città maggiori Che sono Roma Bologna Milano E Credo Trieste Non mi ricordo Sono E Napoli Scherzavo Anche C'era Anche Napoli Possono costruire Unità Quindi Ci servirà Subito Una fattoria Di terra Cioè Una fabbrica Di terra No Scherzavo Napoli Non serve Sto per dire Napoli inutile Ma è brutto A dire Che Che Sponzo No 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 Ovviamente scherzo Ci servirà per Napoli Perché Ha tanti cittadini Comunque In confronto Di altre città No facciamo Your country Needs you Che ci dà Molto di più Ok Poi dopo Qui Produzione Facciamo Una Fattoria Fabbrica Fabbrica D'aria Milano Invece Facciamo Una Fabbrica Non so Che cazzo Facciamo Sempre di terra Perché Milano In una posizione Strategica Trieste Che anche Trieste Non è che Serva tantissimo Per costruire Unità Facciamo Le mura Sono inutili Vedendo Facciamo Warbones Ok Così stiamo andando Un po Meglio Qua c'è la nostra Città Cosa facciamo Facciamo così Va Così Dritto per dritto E Andiamo Alla nostra città Di tourbook E facciamo sbarcare Tutta la nostra unità Perché qua Il sistema di sbarco Funziona così Tu devi andare Su Una Qualsiasi casella In cui c'è una città Poi da lì In cui ci sia anche un porto Poi fai Sbarcare unità Perché vedete Qua non posso fare un cazzo Però posso andare A Benghazi Posso sbarcare Anche Volendo Quindi C'è tutto il nostro sbarco Bello Bellino Mister Bellini Preferite Sempre i tortellini A Mister Bellini No Prefer Tortellini Tu Mister Bellini Mi sono Dimenticato Perdonami Bellini Comunque Siamo a posto Ok Nostra prima divisione Qui La nostra esconda divisione È pronta E ci serviranno però Delle divisioni Di fanteria Perché Le divisioni Corazzate Hanno più forza Delle divisioni Di fanteria Però Le divisioni Di fanteria Sono L'ideale Per attaccare le città Quindi Quello che consiglio È Prima sgomberare L'aria Con i carri armati Poi dopo andare Con le città E le città Se non erro Non attaccano A distanza Forse mi sto sbagliando io Però Una Mia Contiglione Ah Mi stavo dimenticando È una cosa abbastanza importante Mica è un turno Dura un anno Credo che questo fosse ovvio Un turno Dura dieci giorni E funziona E funziona Tipo Il primo di luglio Poi dopo sarà No Giulie Sì luglio Primo di luglio Poi dopo il prossimo turno Sarà il decimo Di luglio Ventesimo Trentesimo E uno Oppure No Forse uno Dieci Venti Uno Dieci Venti Credo Più o meno è sempre così Dritto per dritto Si vede che mi piace Mario Non sta Forse mi avete notato E comunque Il mio piano è Di conquista E innanzitutto Conquistare Erachlion Erachlion E bloccare Tutta la flotta qui Qua In questa zona qui La flotta Greca Una conca del genere Così La distruggiamo tutta In modo compatto E poi dopo possiamo Una volta che la flotta è inghientata Possiamo bombardare Quanto vogliamo Sulla città Non è un problema Assolutamente Possiamo anche Se vogliamo Dopo Sfruttare Tirana Come sbarco L'Italia è veramente Vista in una posizione fantastica Posso dire Quindi Ok Spostiamo la classe soldati Un po' qui Si riguardiamo un po' Che cosa c'è E la flotta dov'è? Boh Oltretutto Ci sono anche Le meraviglie In certe città Tipo A Roma Non c'è un cazzo Esatto Però tipo Qua C'è l'oracolo di Delfi Che era qui Delfi Il trucco Ma poco importa E a te ne era qui Ma poco importa E comunque Poi ci dovrebbe essere Anche una statuizia Osta qualche parte Da qui forse Non mi ricordo Comunque ci sono Le meraviglie in giro C'è anche il Louvre No c'è la Turifelli Il Louvre non esisteva ancora Molto probabilmente O esisteva Non mi ricordo Sono ignorante E comunque Per questa puntata è tutto Mi scuso Se è stata una puntata Molto noiosa Però era di introduzione Alla mod Vi consiglio di lasciare un voto Di commentare E dire che cosa ne pensate Di questa mod Ci sentiamo alla prossima gente Da Laro è scritto Ciao